buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce allora crisi di governo la mia analisi quello che accadrà innanzitutto voglio subito dire un qualcosa di molto evidente erano meglio Prodi e Berlusconi ma proprio Prodi e Berlusconi due statisti assoluto paragonati a Conte paragonati a Renzi a Salvini alla Meloni ma veramente non c'è assolutamente confronto allora innanzitutto voglio dire questo trovo davvero fastidioso tutto questo accanimento contro Renzi è vergognoso non pensa agli interessi del paese pensa solo i suoi interessi perché mi dà fastidio che ci sia questa ipocrisia e questa demagogia pietosa perché quando Renzi fa un qualcosa di scomodo nei confronti dei vostri interessi appunto attacchiamolo a più non posso quando invece fa un qualcosa che è di nostra o per meglio dire vostra convenienza a quel punto si sta zitti o è vero che Renzi sta facendo cadere questo governo senza una chiara ragione e siamo tra l'altro in mezzo ad una pandemia ma questo governo esiste perché l'ha voluto Renzi questo governo ha come padre Renzi quindi voi che elogiate Conte voi che ci tenete a questo governo quelli elogiate il miglior governo della storia a differenza degli altri presidenti dei consigli brutti e cattivi questo Conte 2 ovviamente del Conte 2 non il Conte 1 con Salvini ma questo Conte 2 PD 5 Stelle esiste perché l'ha voluto Renzi un anno fa un anno e mezzo fa quando Salvini ha fatto cadere il Conte 1 l'ha fatto cadere certo delle elezioni perché avrebbe voluto vincere le elezioni così avrebbe avuto i pieni poteri e le elezioni erano certe se non fosse se non fosse stato per Renzi che con questa sua diciamo genialata qualcuno l'ha definita ha deciso di appoggiare un governo Conte ed è nato il governo Conte 2 perché 5 Stelle e PD non avevano i numeri da soli altrimenti uno si chiederebbe ve lo dovreste chiedere perché Renzi al governo non potevano fare solamente 5 Stelle e PD e al governo perché servivano i suoi voti quindi tu non puoi far nascere un governo con i voti decisivi di Renzi e poi stupirti che poi sei ricattato sarai ricattato dallo stesso Renzi cioè se non fosse stato per Renzi noi avremmo già avuto le elezioni sarebbe al governo Salvini e da Meloni cosa che accadrà adesso se per esempio si voterà andrà a vincere il centrodestra di Salvini Meloni barra Berlusconi eh però lo fa solamente per i suoi interessi Renzi perché vuole tornare al centro della scena certo ma ha fatto per i suoi interessi anche nascere il governo un anno e mezzo fa non è che voi potete condannare gli interessi di Renzi solamente quando coincidono con i vostri veramente è incredibile dover assistere a questo teatrino squalido e io pur pensando che Salvini sia il peggior a mio avviso uomo politico il suo partito rappresenta il peggio della politica italiana ritengo che già un anno e mezzo fa si sarebbe dovuto votare perché questo governo qui, Conte 2, esiste solamente per la paura del voto per non far andare a vincere il cattivone Salvini allora fare un governo contro non ha senso infatti da un anno e mezzo questo governo è assolutamente fermo è un governo che, ma anche prima della pandemia, non fa assolutamente nulla nonostante venga elogiato come il grande cambiamento mamma mia figuriamoci adesso, è già indecente che esista questo Conte 2 ora qualcuno vorrebbe pure il Conte Ter sostituendo i voti, diciamo, dei renziani con i responsabili che un tempo sarebbero stati definiti dei corrotti, comprati, squalido di Volta Gabbana allora tutto va bene per tenere lontano chi? l'amico di Trump i trampiani dei noi altri i sovranisti alleati di Trump, di Orbele e bla 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 la democrazia che tanto voi eleggiate prevede questo che chi ha più voti alle elezioni vince quindi non si può continuare a avere anche se dal punto di vista costituzionale è tutto lecito è veramente ridicolo che si continui con questa storia tanto prima o poi Salvini e Rammelloni le elezioni le vincono oramai la scadenza naturale non è poi così lontana, 2023 dovete ancora rinviarla quindi a mio avviso sarebbero meglio le elezioni poi quello che accadrà Forza Italia, perché si parla anche di questo non appoggerà mai il governo eventualmente Conte oppure un altro governo con un altro posto di Conte non appoggerà mai senza Salvini e Rammelloni perché non vuole dei sattaccati dal centro-destra perché non gli conviene perché se si vota Berlusconi va al governo con Salvini e Rammelloni perché dovrebbe rischiare di perdere i suoi alleati? altro discorso ci saranno dei traditori di Volta Gabbana all'interno di Forza Italia un po' come anni fa Alfano e company questo può essere però si può fare una maggioranza, un governo PD 5 Stelle più 15-20 senatori Volta Gabbana ex di Forza Italia per una maggioranza risicata vogliamo il governo con ministro Brunetta perché si parla di Brunetta, Carfagna e altri che sono un po' in dissenso con Forza Italia nell'ultimo periodo mi immagino già i vari travaglio i vari giornalisti del fatto quotidiano che per anni si sono scagliati contro certi personaggi politici beh, tutto sommato Brunetta poi non è così male è un ex socialista 30 anni fa era socialista dai, alla fine è uno di noi la Carfagna tutto sommato si batte per i diritti delle donne molto meglio della Boschi ma che teatrino squallido che teatrino squallido quindi, la mia previsione Forza Italia non appoggerà nessun governo Conte o con un sostituto di Conte ci potranno essere dei responsabili Mattarella non accetterà che Italia Viva venga sostituita da sparsi responsabili dovrebbe andarsi a formare un nuovo gruppo parlamentare contenito dietro di questi responsabili se si dovessero trovare è possibile lasciare di un governo 5 stelle e PD più questo gruppo però non credo che ci siano tutti questi responsabili perché non devono essere non sono sufficienti 3 o 4 devono essere proprio 15, 20 tra l'altro 15, 20 per avere 2, 3 voti di maggioranza quindi trovo molto difficile quella strada anche se non è impossibile altre soluzioni io sinceramente non le vedo un governo centrodestra non è possibile un governo Draghi fino al 2023 o comunque un governo tecnico non lo vedo possibile perché non conviene a Salvini e a Meloni perché dovrebbero appoggiarlo posso prevedere un governo di tutti con 3 punti per le emergenze per poi votare a giugno quindi magari non in piena pandemia perché dovete sapere che poi da fine luglio quindi da agosto inizia il semestre bianco quindi da agosto non si potrà mai più votare perché poi tra 6 mesi a partire da agosto quindi inizio 2022 finisce il suo mandato Mattarella e gli ultimi 6 mesi un paese in Repubblica non può sciogliere le camere quindi è molto probabile come data a mio avviso per il scioglimento delle camere giugno ultima data possibile l'alternativa è ovvio che tutti vorrebbero anche perché molti non avranno più un lavoro se si sciogliono queste camere tutti vorrebbero continuare però secondo me il margine è stretto perché o Renzi cambia idea Torneto non fa dimettere più le ministre ma le ha appena fatte dimettere quindi direi che questa ipotesi poteva essere valida fino a qualche ora fa ora non c'è più questa via Renzi va fino in fondo i responsabili secondo me esclusa Forza Italia nella sua interezza non saranno abbastanza questi responsabili per far sì che possa essersi un governo per i prossimi 1-2 anni quindi io prevedo e credo che sia anche la strada più sensata un governo per qualche mese per affrontare le emergenze e poi votare a giugno è possibile anche ovviamente che ci sia la via del governo Conte o un altro posto di Conte con i responsabili al posto di Italia Viva perché ripeto si potrebbe tecnicamente decidere di far andare avanti un governo con questa maggioranza raccoglieticcia raccoglieticcia non lo escludo ma è l'unica ipotesi a mio avviso alternativa al voto ma sarebbe davvero una vergogna inaudito uno schifo colossale d'altronde lo schifo colossale è l'intera politica italiana abbiamo Salvini che rappresenta davvero non so neanche come definire l'ignoranza il bigottismo questo sovranismo sterile e fuori da qualsiasi senso di realtà la Meloni siamo lì poi abbiamo i Cinque Stelle che sono il partito dell'incompetenza e del lodo nei confronti della casta abbiamo visto la grande brillantezza di questo movimento abbiamo un conte che nella prima volta nella storia è riuscito a fare all'interno della stessa legislatura due governi di segno opposto non era mai capitato anche nei periodi di peggiore trasformismo quindi il conte è assolutamente sopravvalutato ma davvero per carità non sarà un lato perché molti dicono beh ma è una persona onesta in che senso che non ha mai rubato la pedina penale politica wow grande merito allora sì che abbiamo il futuro prospero dinanzi a noi pochezza assoluta un PD che oramai è un partito senza arte né patte senza anima Forza Italia esiste da 30 anni ed è un partito personale classe dirigente imbarazzante i punti all'occhiello sarebbero gelini non voglio pronunziare altri nomi però devo dire che sì Berlusconi rispetto ai suoi alleati e ai leader di adesso Renzi anche se è un leader al tramonto si appare assolutamente uno statista ma non solo adesso che fa la parte del saggio anche analizzando i Berlusconi insomma degli anni d'oro d'oro per lui ma assolutamente è meglio Berlusconi che i politicanti attuali e meglio Prodi quindi per evitare qualsiasi fraintendimento sei un fan di Berlusconi dico sia Prodi che Berlusconi statisti rispetto Salvini Meloni Melone Conte Melone come si chiama Melone Meloni Peroni Zingaretti e quindi veramente tristi ovviamente non è che brillava di di grande acutezza la politica degli anni 2000 ovviamente squallore e nefandezza anche in quel periodo però stiamo toccando dei punti dei punti bassissimi non esiste un solo partito votabile incredibile e niente questo è quello che a mio avviso c'è da dire vediamo un po' quello che accadrà nelle prossime ore le prossime settimane i prossimi mesi un saluto a tutti fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti comunque davvero indecente l'appello ai responsabili che un tempo sarebbero stati considerati dei traditori avrebbero avrebbero già fatto partire un processo Berlusconi ma è diverso un conto è un responsabile che in cambio ottiene qualcosa quindi corruzione un conto è chi lo fa gratis perché secondo voi vi sono dei responsabili che fanno quello che fanno che faranno quello che faranno se lo faranno gratis ma vergognatevi per favore incredibile anche su questo stendiamo un velo pietoso se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video puoi supportarmi abbonandoti al mio canale cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci oppure in alternativa puoi aderire alla mia pagina Patreon per farlo è semplicissimo apri la mia pagina Patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese il gruppo whatsapp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti